Siamo abituati a vedere Luca Laurenti sempre sorridente. Per questo i fan sono ancora devastati al ricordo di lui mentre piangeva copiosamente per quella tragica perdita. Ecco che cos'era successo. Luca Laurenti è un personaggio dello spettacolo molto famoso che è entrato nel cuore dei suoi fan fin dagli esordi a fianco del suo socio e amico, Paolo Bonolis. Grazie alla sua simpatia e al suo modo di fare. Fa ridere il suo pubblico da anni. Per non parlare di quando lo lascia, senza fiato, quando inizia a cantare. Eppure, Luca, ha scioccato i suoi fan. Dopo essere apparso disperato ad un noto programma Mediaset. Le sue lacrime hanno straziato i cuori del pubblico. Già provato per la notizia tragica da poco appresa. Nonostante sia passato un anno da quell'evento, ad oggi, la sua reazione è ancora fresca nella mente dei fan. La devastazione di Luca Laurenti. Tra l'altro, da qualche settimana Luca Laurenti. Ha subito un altro colpo al cuore. Da quello che abbiamo capito, Paolo Bonolis. Ha condotto quest'anno. L'ultima edizione di Ciao Darwin. In quanto prossimamente dirà addio. Non si sa se per sempre o per un certo periodo. Ha il suo lavoro di conduttore. D'altronde. L'ex marito della Bruganelli. Ha lavorato da una vita e adesso ha voglia di godersi un po'. La pensione. Insieme ai suoi figli. La chiusura del suo programma. Coinvolge anche Luca. Il quale ha abbracciato l'amico durante l'ultimo, Buonasera. Rivolto dallo staff ai telespettatori. Mostrando un Laurenti molto provato, dopo tanti anni di lavoro assieme. Non si sa se il cantante proseguirà la sua attività lavorativa senza il conduttore. Sicuramente però non sarà più lo stesso vedere Luca senza Paolo e viceversa. Ha oltre un anno dalla morte di Maurizio Costanzo. Il ricordo del conduttore del Maurizio Costanzo Show è ancora vivido nel cuore dei suoi fan. I quali lo ricordano ancora con molto affetto. Tra i vari pensieri che circolano in rete. Oltre a quello per Maria De Filippi e i suoi figli. I fan ricordano ancora il dolore provato da Luca Laurenti durante la sua intervista da Silvia Toffanina Verissimo. In quell'occasione. Laurenti era scoppiato in un pianto devastante. Non riuscendo più a parlare. Facendo commuovere non soltanto la Toffanin ma anche il pubblico che ancora ricorda le sue parole. Mi spiace piangere davanti a tutti. Lo so che è difficile vedere così un uomo come me che fa tv da 36 anni che trasforma i sorrisi in lacrime. Ma i sorrisi in video sono le lacrime nei nostri cuori. Maurizio per me era come un padre. Non ci si abitua alla perdita delle persone. Grazie a tutti.